Nel continuo, ininterrotto, instancabile giungere delle onde sulla riva pare a volte di cogliere un silenzio e un'attesa. Il silenzio è come un invito nei nostri confronti a fermarci rispetto alla frenesia in cui solitamente viviamo, a fermarci dinnanzi alle cose e coglierle più profondamente, imparando a stare di fronte ad esse e l'attesa è l'attesa delle cose stesse nei nostri confronti che sembrano aspettare che noi ci fermiamo di fronte ad esse per osservarle, per coglierle più profondamente nella loro verità.